Windows, ti chiamerai tu! Ebbene sì, Microsoft si è decisa di farci dare finalmente una sbirciata a quello che sarà Windows 11 24 H2 e sul suo Insider Channel ha rilasciato sia una ISO scaricabile sia la possibilità di aggiornare direttamente da PC. Tuttavia, a proposito di rose di guancia, non saranno tutte rose e fiori come vedremo, infatti questa versione di Windows sarà capace molto probabilmente di farti diventare verde e non uso a caso questo colore. E allora andiamo a vedere insieme come scaricare, installare e testare la nuova versione di Windows. Ti senti pronto? Iniziamo! Ebbene sì, Microsoft ha sciolto le riserve e si è decisa finalmente a farci dare una sbirciatina in anteprima, ma come vedrai a breve potrai guardare anche tu questa nuova versione di Windows, anche se i puristi si arrabbieranno e mi diranno non è una versione, è una build, a me piace chiamarla versione e so che tu mi capisci benissimo, quindi continuerò a chiamarla nuova versione nel corso di questo video. Insomma, nel momento in cui andiamo a scaricare questa nuova versione, ci accorgiamo che è molto più categorica rispetto a prima per quanto riguarda i requisiti minimi, che sono più o meno gli stessi dei Windows precedenti, ovvero processore, RAM, TPM e Secure Boot, con l'aggravante però che i processori più vecchi sono completamente tagliati fuori e che se anche andassimo a tentare di modificare con Rufus la ISO di installazione per aggirare il problema dei requisiti minimi, questa ISO purtroppo non funzionerà. Ma comunque andiamo a vedere Microsoft che finalmente se data sta svegliata, che cosa ha combinato per noi. 6, 6, 7, 7, 1 Buongiorno signor Marchese Buongiorno S'è svegliato! Ebbene sì, sei svegliata, ma sei svegliata male. Infatti, tutti quelli che hanno provato la prima versione di Windows 11 24 H2, e se sarai abbastanza coraggioso, tra un po' avrai la possibilità di provarla anche tu, hanno avuto delle piccole, medie o grandi, piuttosto grandi, disavventure. Ma è compreso perché Windows 11 nella 24 H2, quando viene installata su un PC, può provocare dei crash, dei gsod e degli altri errori. Ma che cosa sono questi gsod? Ebbene, e se prima esistevano i bsod, ovvero i blue screen of death, adesso esistono i gsod, ovvero i green screen of death, e cioè le schermate blu della morte che ci bloccano irrimediabilmente il computer con degli errori abbastanza pesantucci. Nella fattispecie, un errore che ho riscontrato, come vedrai anche io stesso, nel momento in cui si va ad avviare per la prima volta dopo l'installazione Windows 11, ci viene fuori questa schermata verde che riporta un messaggio assolutamente criptico e mai visto prima, che impedisce addirittura il boot della macchina. Per fortuna, in questi casi, niente paura perché automaticamente Windows è capace di riconoscere e di intercettare questo errore, torna indietro, ti leva la versione 24 H2 e ti fa tornare come prima. Ma non è detto tuttavia che tu non sia uno dei fortunati a cui Windows 11 24 H2 funziona già bene. Questa volta, tuttavia, ho pensato di far partire il video al contrario, e quindi ho già installato su questo computer la Windows 11 Insider Preview che si chiama 10.0 blablabla che è, in sostanza, Windows 11 24 H2. Ho appena terminato l'installazione per mezzo degli aggiornamenti e non mi resta che cliccare sul pulsante Riavvia ora. Vediamo che cosa succede. Evviva! È andato tutto bene. Andiamo a controllare. Start, Impostazioni, Windows Update, Ops, Errore di installazione, 0xc, blablabla. Ebbene, sì, su parecchie macchine, e in particolare, devo dire, sulle macchine virtuali, questa installazione non va a buon fine. Naturalmente, almeno per una volta, non è il caso di dare addosso a Microsoft per questi errori. Ti ricordo, infatti, che si tratta di una versione beta ed è normale che ci sia qualche lieve imperfezione. Tuttavia, sono certissimo che Microsoft, a brevissimo, risolva questi errori e che Windows 11 24 H2, in versione Preview, sarà installabile su tutti quanti i nostri PC. Naturalmente, servirà un piccolo trucchetto per poter sbloccare sia l'aggiornamento, sia per andare, eventualmente, a scaricare la ISO. Ma questo te lo mostro subito. Se su una macchina non ancora iscritta al programma Insider di Windows, ci porteremo sul menu Start e successivamente apriremo Impostazioni e quindi Windows Update, se anche andassimo a cercare degli aggiornamenti, non troveremmo sicuramente quello relativo a Windows 11 24 H2. Non importa se andiamo ad attivare l'opzione che ci consente di visualizzare gli aggiornamenti in anteprima, perché in ogni caso riceveremmo solo gli aggiornamenti normali. Come fare allora ad accedere all'insider programma di Windows? Naturalmente, il metodo canonico, quello previsto da Microsoft, è quello di iscriversi, come vedremo a breve, al Windows Insider Program. Diversamente, sul sito gentiluomodigitale.it ho inserito un file che ti mostro a puro scopo didattico, che ti consente di ottenere comunque questo genere di aggiornamenti da parte di Microsoft. Apriamo quindi il nostro browser, come ho fatto io, e nel motore di ricerca digitiamo gentiluomodigitale. Effettuiamo la nostra ricerca ed apriamo il primo risultato, ovvero quello relativo al sito gentiluomodigitale sul dominio gentiluomodigitale.it. Una volta aperto in alto, ci portiamo sulla sezione Downloads e nella pagina che si apre scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo file, quello che si chiama Abilita Insider. Clicchiamo sul pulsante File Download e nel momento in cui il file viene scaricato lo andiamo ad aprire facendoci doppio clic. A questo punto possiamo chiudere la finestra del browser retrostante e possiamo trascinare il file contenuto all'interno sul nostro desktop. Chiudiamo quindi la finestra compressa che non ci serve più, clicchiamo con il pulsante destro sul file che abbiamo appena scaricato e scegliamo la voce Esegui come amministratore. Immediatamente Windows ci informerà che non conosce questo file e questo è abbastanza normale dato che il file l'ho modificato io sulla base di un file preesistente. Clicchiamo quindi su Ulteriori informazioni e clicchiamo infine sul pulsante Esegui comunque. Accettiamo naturalmente che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo e qui potremo scegliere a quale canale di Windows Insider iscriverci. Personalmente ti suggerisco il canale Dev, quello con il numero 1, che è un canale abbastanza tutto sommato bilanciato che ti consente di ricevere anche le nuove versioni di Windows in preview. Digitiamo quindi 1 ed invio sulla tastiera, dopodiché digitiamo Y e premiamo nuovamente invio. Vedrai che il tuo computer si riavvierà automaticamente, esattamente come sta facendo il mio in questo momento, e una volta riavviato, se andremo nuovamente ad aprire le impostazioni e gli aggiornamenti di Windows, quando andremo a verificare la disponibilità di nuovi aggiornamenti, vedremo che ci verrà mostrato anche il nostro Windows 11 Insider Preview, che verrà scaricato automaticamente e di cui partirà l'installazione. Naturalmente potremo in qualsiasi momento andare a disattivare gli aggiornamenti di questo tipo andando semplicemente a riaprire, sempre cliccandoci con il pulsante destro, il nostro file, scegliendo nuovamente Esegui come amministratore, andando ad accettare che vengano apportate modifiche al sistema e cliccando sul pulsante col numero 4, cioè smetti di ricevere le Windows Insider Builds. Potremo premere su Invio e successivamente su Y e riavviare il nostro computer. In questo caso tuttavia io clicco su N e poi su Invio per mostrarti che nel frattempo il nostro aggiornamento di Windows viene scaricato sul nostro computer. Successivamente partirà in automatico l'installazione e ti auguro che sul tuo PC vada a buon fine. Ma non finisce qui. Infatti voglio mostrarti come fare a scaricare anche la ISO di Windows 11 24 H2 che può esserti utile per creare un pendrive con Rufus, come vedremo a brevissimo. La prima cosa che dovrai fare sarà andare su questo indirizzo qui, quindi microsoft.com slash it meno it slash windows insider slash che ti lascio comunque per tua comodità anche nella descrizione di questo video, scendere un pochino più in basso e cliccare sulla voce registrati. Io purtroppo l'ho già fatto, comunque ti basterà cliccare successivamente su accedi ora, inserire le tue credenziali e quindi dopo aver digitato l'indirizzo di posta elettronica e successivamente la password di confermare tramite un codice che ricevi via email il tuo accesso. Attenzione però perché potrebbe anche esserti richiesto di compilare ulteriori campi e non a tutti è concesso di diventare partner Microsoft. Ti arriverà via posta un codice che dovrai ripetere qui e cliccare infine su verifica. potrai scegliere se rimanere connesso o meno e andare invece su quest'altra pagina e ti lascio anche in descrizione scendere in basso fino quasi in fondo e scegliere la versione di Windows 11 24 H2 che vuoi scaricare. Naturalmente anche in questo caso io ti consiglio quella del canale DEV. Quindi selezionala, premi sul tasto conferma e nella pagina successiva vai a scegliere la lingua del prodotto che preferisci. Clicca ancora una volta su conferma e nell'ultima pagina che ti si aprirà potrai cliccare sul pulsante 64 bit download per andare a scaricare la tua ISO. Una volta terminato il download quello che ti consiglio di fare è aprire la cartella che lo contiene mettere momentaneamente giù il browser e trascinare la ISO appena scaricata sul tuo desktop. Successivamente tornare giù a riaprire il browser e ritornare sulla sezione downloads della pagina Gentiluomo Digitale che ti ho mostrato prima come trovare. Utilizzando la lente di ricerca vai a digitare Rufus. Premi invio per effettuare la ricerca e vai a scaricare l'ultima versione. Fatto questo apri nuovamente la cartella che contiene la versione appena scaricata. Possiamo questa volta chiudere il browser e fare doppio clic per aprire la cartella compressa. Prendiamo l'unico file presente al suo interno e lo trasciniamo vicino alla nostra ISO. Fatto questo chiudiamo anche la cartella compressa e andiamo a procurarci un pendrive che inseriremo all'interno del nostro PC. Fatto questo andiamo ad aprire Rufus accettiamo che vengano apportate modifiche al dispositivo e trasciniamo la ISO che abbiamo messo sul desktop all'interno della finestra di Rufus. A questo punto clicchiamo sul pulsante avvia e mi raccomando andiamo a togliere il segno di spunta da tutte quante queste voci perché non funzionano più se creiamo una ISO con Windows 11 24 H2. Possiamo, se vogliamo, lasciare spuntata solo la voce che dice Crea un account locale scegliendo il nome che preferiamo per questo account. Clicchiamo a questo punto sul pulsante OK e veniamo avvisati che tutto il contenuto del nostro pendrive verrà irrimediabilmente distrutto. Quindi fai attenzione a non lasciare su di esso dei file importanti. Se sei sicuro di poter cancellare questo pendrive clicca su OK ed attendi pazientemente il termine dell'operazione. Ecco fatto, il nostro pendrive è pronto e per utilizzarlo ti basterà entrare nel BIOS e impostarlo come primo dispositivo di boot. Effettivamente questo video è stato più impegnativo di quello che può sembrare dall'esterno. Ma come sicuramente avrai capito questa versione di Windows non è ancora giunta ad uno stato di maturità. Nel momento in cui avrà raggiunto questa condizione naturalmente ci faremo una bella recensione. Ma nel frattempo, se avrai voglia di testarla su qualche tuo computer secondario ti sarò veramente molto ma molto grato se volessi condividere con me e con tutta quanta la community naturalmente le tue prime impressioni. Ma veniamo ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi vanno sicuramente a Giorgio Bruscasco con il suo immancabile supergrazie e due volte a Thomas2915 perché ci ha lasciato la bellezza di due diversi supergrazie. Vi ringrazio infinitamente per il vostro supporto e soprattutto per la vostra simpatia e il vostro calore. Ma un altro ringraziamento va a Roberto Zanini il quale si è appena abbonato al nostro canale e quindi gli do ufficialmente il benvenuto a nome mio e di tutta quanta la community dei gentiluomini. Non dobbiamo tuttavia dimenticarci quell'ultimo importantissimo ringraziamento che come ben sai è destinato sempre a te che hai guardato questo video e hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo, come sempre non mi resta che salutarti e darti appuntamento. Alla prossima!